acqua che bolle proviamo a mettere questi tortelli qua e vediamo che succede ora prendo cucchiaio devo mescolare c'è movimento ora qui sono felicemente sola un giro ora mangio questi tortelli come vedete guardate com'è rimasti ancora parecchi interi guardate bellissimi tortelli e ora mangio felicemente sola buonissimo freschissimo profumo molto gradevole questo vino sfuso da contagino profumo molto gradevole fresco gradevole non è forte molto molto gradevole perché qualche volta quando si beve troppo qualcosa sempre che non va questo non c'è niente che non va guardate che tortelli mio uomo conosce questi tortelli perché due volte ha assaggiato anche lui ha detto che buoni questi proprio buoni è pensato lasciare per lui magari anche domani ma domani lui non c'è tutto il giorno non c'è ora prendo integratore unico integratore che mi è rimasto questo ferro qua questo ferro 90 capsule e si prende questo solgar come sapete mia marca preferita uno al giorno si prende ferro ferro sempre manca soprattutto per donne in quelli che hanno ciclo che perdono sempre ferro comunque ferro manca sempre anche a me per avere energie ferro responsabile per energia proprio buono bel pranzo oggi faccio bella vita io bella vita in tutte le libertà in tutta piena libertà senza uomo oggi faccio come mi pare pranzo nel pranzo nel pranzo nel pranzo nel pranzo non si sa quanto mangio perché stamane facevo tante cose mi sono rilassata colazione mangiato tardi pranzo diciamo no come gente normale mi vergogno dire che ore sono ma vedete ancora bel giorno fuori allora cena non mangio più niente no mangio qualche frutta perché sono dipendente da frutta buono guardate tortello intero vedete è proprio stra buono anche questo impasto guardate senza carne fidatemi è molto molto buono dove è carta? ecco qua allora una goccia di vino ancora è proprio buono a dopo amici ora finisco senza di voi con vostro permesso no no